Ben trovati, come sempre il venerdì è l'appuntamento con Piazza Social, ormai è diventato un appuntamento settimanale fisso su Telebluder, dalle ore 21 questa sera partiamo e partiamo con una storia molto importante che vi sveleremo fra pochissimo subito dopo la sigla, una storia di ripartenze, di speranze e di sogni in una periferia del nostro mezzogiorno. Non voglio perdere altro tempo e voglio subito far conoscere il nostro primo ospite di questa terza puntata di Piazza Social. Allora, sigla! Allora ci siamo, ben trovati dopo la sigla, siamo in onda su Telebluder, con la terza puntata di Piazza Social. Questa puntata vi ho detto che sarà molto particolare, nel primo spazio avremo più che un'intervista una chiacchierata con un ospite che è ritornato a Foggia dopo una prima visita proprio qui in terre d'Aune. È un parroco, un parroco che opera da ben più di 18 anni in un rione complesso ed difficile come il rione della sanità Napoli ed è un parroco che è oltre, nelle strade, nei vicoli ed è riuscito a creare una riqualificazione urbana di mente e di spirito nella comunità. È una comunità difficile che è riuscito a riprendere, riportare a galla con tanto lavoro e tanto sforzo. Faremo con lui un ragionamento sulla bellezza, sulla cultura, su temi che sono a noi molto cari e che andremo a approfondire anche declinandoli sul territorio di Capitanata. Sono molto contento di avere questa sera a Piazza Social. Don Antonio L'Offredo, benvenuto a Foggia. Eccolo qui. Non è la prima volta che lei arriva a Foggia? No. Già è stato, ha cominciato ad avere anche amici qui in territorio di Capitanata, uno è proprio il professor Giuliano Volpe con cui è nato un amore, un amore anche proprio di esperimenti, di cose che vi siete scambiate anche come bagaglio culturale. Penso che oltre Giuliano che è una grande amicizia c'ho qualcosa di più, c'ho il mio coparroco che è di Manfredonia, quindi il filo è doppio. Il filo è doppio con questa terra. La nostra trasmissione è una trasmissione che si occupa di social. Don Antonio L'Offredo non è sui social, però tutta l'attività che si svolge al Rione Sanità è ben rappresentata sui social network. Il primo hashtag che abbiamo trovato vedendo un po' tutto quello che voi fate è appunto Sanità. Ho detto che lei è arrivato al quartiere Sanità nel 2001, ha detto molto spesso che quella è stata una periferia tagliata dal centro e dal grande tessuto urbano di Napoli. Come l'ha trovata quando arrivò in questo tumulto anche di emozioni? Perché al quartiere Sanità, come lei racconta in questo libro che è pubblicato per Mondadori, noi di Rioni Sanità, la scommessa di un parroco e dei suoi ragazzi, si vivono le cose intensamente, quasi con una carica più sentita, maggiore. Sì, con una forza enorme di umanità. Sarà perché da 200 anni ormai siamo chiusi in un ghetto, no? E tu sai che i ghetti hanno questa capacità di custodire qualcosa di negativo, però riescono a mantenere cose che altrove si perdono in un discorso di globalizzazione. Una di queste è lo spessore umano che hanno queste persone chiuse in questo ghetto accucciolato sotto le colline di Capodimonte. Alla Sanità, come al Sud, è molto risentito, molto spesso anche la voglia di riscatto. Lei ha cominciato a fare proprio questo, lei ha cominciato a dare degli obiettivi alla comunità del Rioni Sanità. Come l'hanno integrata all'interno del loro vivere sociale, vivere quotidiano, nelle pratiche di ogni giorno? Quando tu entri in un ghetto e quando entri in un ghetto del Sud, devi innanzitutto lasciarti conoscere e devi rispondere a una domanda che si pongono quando entri nel ghetto. Che cosa vuole? Cosa si viene a prendere? E quindi posso dire che il mio approccio con il Rioni Sanità è stato innanzitutto starci. E starci per alcuni anni lì come compagno, come persona che cercava di comprendere un bisogno per poi creare relazioni, attraverso quelle chiederci insieme che cosa si può fare. E questo ha creato un metodo più che altro. Un metodo, perché lei racconta in questo libro anche che le lezioni frontali al Rioni Sanità valgono poco. Quello che importa è il contatto sociale, una pizza scambiata con i ragazzi, una birra presa in un bar. Le emozioni sono più intense quando si abbattono anche un più le gerarchie, i rapporti, se vuole, anche un po' istituzionali che si vengono a creare in una comunità. Sì, noi abbiamo un po' tutti al Sud questa abitudine e da noi è ancora più marcata, cioè quella che è difficile metterci soltanto a ragionare, soprattutto se non si vede un obiettivo. in questo io mi sento molto simile ragazzi, infatti nel libro racconto come andare a scuola per me è stato molto molto faticoso, perché non c'era motivazione, non c'era un innamoramento e come definivano il mio andamento scolastico non adatto per proseguire, quindi forse era meglio orientarmi al mondo del lavoro. Fu quella, diciamo, la condanna che ho ricevuto dopo le scuole medie. È la stessa cosa per i ragazzi, ho trovato la stessa cosa, l'abbandono da noi è molto diffuso, ma quando a un certo punto un ragazzo che ha anche abbandonato la scuola superiore gli dai un sogno da seguire, lui incomincia a pensare che è poi necessario anche studiare e quindi è capace di seguire un corso serale, è capace di crescere attraverso altre metodologie e approdare, come molti in questo momento, anche l'università. Se dovesse raccontare una parola diversa a questo hashtag, il quartiere sanità, come lo racconterebbe? Noi amiamo molto giocare su questa parola e pensiamo che sia un luogo nel quale ci sarà un cambiamento. Molti anni fa, ma proprio per il senso del cambiamento, il nostro cardinale pugliese, Ursi, diceva la sanità, diceva la sanità cambierà e diceva questo negli anni settanti, lui amava giocare con le parole, si cambierà tutto, anche il nome da sanità a santità, giocava sulla T da mettere, no? E quella la verità, il credere profondamente che è possibile riuscire anche lì dove a una superficiale lettura possono sembrarci tante le ferite che accompagnano il quartiere, ma se uno guarda in quelle ferite sono delle fessute di luce che guardano al futuro. Ed è quello che mi è capitato fare, cioè nelle numerevoli ferite che si trovavano anche negli stessi monumenti, no? Si ha la capacità, come diceva Pasolini, di saper scorgere il bello, ecco, hai occhi curiosi, occhi che credono che il bello esiste, nelle ferite lo trovi perché è molto luminoso. Questa è la questione della luce e poi ci ritorneremo perché un aspetto fondamentale nel racconto dell'esperienza che lei ha vissuto a Rione Sanità sono sempre le parole positive quello che vengono a galla e una parola positiva, un hashtag che abbiamo trovato è anche quello della comunità. Lei prima parlava della parola e lei quando è arrivato a Rione Sanità ha cercato di dare parola ai ragazzi. Sembra quasi che il Rione Sanità che lei ha trovato poco più di venti anni fa sia la stessa Barbiana, sia la stessa scuola di Don Milani che anni prima aveva cominciato a infondere anche nei ragazzi e negli occhi il senso e il valore della parola. Ha cominciato proprio da quello. Don Milani diceva che con le parole si può governare il mondo. Perché ha cominciato ispirandosi forse anche al perore di Barbiana? Ma certo, non ci potevamo non ispirare, essendo stata una persona grande della fine del secolo scorso. A Rione Sanità abbiamo un'opera molto bella che riassume quello che tu dicevi, ce l'ha regalato un artista contemporaneo, abbiamo molte opere moderne che raccontano il nostro oggi e questa è fatta di tante lettere tipografiche, quelle che si usavano una volta per fare le stampe e sono messe insieme e formano una croce. E ai ragazzi che chiedevano perché questa croce era fatta con le lettere e sta lì in basilica come un monito. Perché quelle, conoscerle, saperle usare, saper parlare, conoscere il senso di quelle lettere che formano le parole rendono l'uomo più simile al suo creatore, gli permettono di poter avere in mano la vita. Ed è quello che cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzi, riappropriarsi, altrimenti senza le parole saranno altri a decidere per loro. E questa è mancanza di libertà. Lei scrive, la gente qui desidera più cose che entrano nella pelle che nella testa, come si sono cimentati anche con gli obiettivi che voi di tanto in tanto vi siete dati? Perché poi sono stati tanti gli obiettivi, a cominciare dal rapporto anche con la cultura, però a cominciare anche proprio dalle cose quotidiane. Vi siete confrontati anche con un terribile male di questo paese, la burocrazia. I ragazzi avevano degli obiettivi che rispondevano anche delle necessità che venivano dalla profondità del loro cuore. Come è andata? Certo è stato difficile affrontare soprattutto la burocrazia, ma la voglia di raggiungere quegli obiettivi, l'ambizione che a un certo punto è scattata nell'avere chiara la visione del cambiamento nel loro quartiere e a portare a sopportare ogni cosa e ad essere pronti ad affrontare qualunque cosa. Questo è certamente l'aspetto positivo che ho riscontrato nella voglia di cambiamento. I ragazzi hanno incominciato ad approfondire quella che era la cultura per un fatto necessario, perché hanno capito che dovevano essere loro a spiegare i loro stessi monumenti. Immagina che pochi anni già, più di 25 persone, hanno un contratto a tempo indeterminato per lavorare su che cosa? Su un bene storico-artistico, su un bene culturale. Poi tutte le cose che si raccontano, si vivono in questa comunità particolare, hanno sempre avuto, come dicevi, un qualcosa che entrava nella pelle. Alla sanità potremmo dire, come diceva Cicerone e Agostino, più che convincere la frontalità, il discorso, bisogna commuovere, bisogna trovare qualcosa che prende il corpo, prende gli orecchi, gli occhi, il naso, qualcosa è la via della folgorazione, è la via della bellezza, è quella che ci introduce più facilmente. Ecco perché il teatro, ecco perché la musica, ecco perché la pittura, ecco perché la scultura, perché sono quelle vie che vanno direttamente, non al cervello, vanno al cuore, alla pancia, e sono quelle che permettono anche la guarigione dei cuori. La guarigione dei cuori sembra un caso, ma forse un caso non lo è, che dopo le parole, dopo l'importanza della lingua, un tema affrontato direttamente da lei al Rione Sanità è stato proprio quello della cultura. Lei scrive sempre in questo libro che occorre tornare ad avere cura degli uomini e delle cose, riconoscere il valore della cultura. Avrebbe mai immaginato di entrare a Rione Sanità dove la violenza, dove anche la brutalità di certi comportamenti la fanno da padrone, ricominciare a prendere una comunità a coinvolgere attraverso la cultura, che forse è uno di quegli elementi anche per chi governa il nostro paese, che viene visto come marginale, una cosa che poi non può cambiare più di tanto. Non lo so, quelli di governo dove hanno vissuto, ma per noi che viviamo così immersi in una bellezza così sfacciata, non vediamo altra via di uscita che quella, dovrebbero forse cambiare abitazioni o città, non lo so chi ha questi pensieri strani. Penso semplicemente che non mi è estraneo come prete questo discorso, a volte qualcuno lo vede come qualcosa in più o qualcosa di accessorio. Volei dire una cosa un po' difficile, ma forse potrebbe risultare chiaro il perché preoccuparci di cultura e perché farlo anche io che sono prete e perché metterlo nel mio lavoro quotidiano. Io penso che tutto ciò che è bello, tutto ciò che è bello non è altro che il frammento di un qualcosa di più grande. Sant'Omasio diceva che la parola bello, la sua etimologia è bonicellum, è il piccolo bene, è il bene abbreviato. Quindi tutto ciò che è bello già di per sé è buono, ma oltre a essere buono genera bontà e quindi c'è un rapporto così intimo tra estetica ed etica che non ci si può, non si può essere indifferenti di fonte al patrimonio storico-artistico, non si può essere indifferenti di fronte al nostro patrimonio paesaggistico. Tutte queste cose hanno di per sé, perché sono belle, hanno quel frammento di bontà che per me che sono prete, il tutto, è quel totalmente altro che risplende in una parte più e meno altrove. Quindi saperlo riconoscere, saperlo curare e questo insieme poi a che cosa? Al cuore della cosa che dice la Bibbia la più bella che Dio ha fatta. Quando fa i sette giorni, lui fa il mondo intero, si meraviglia e dice che bella cosa che ho fatto, che bella cosa che ho fatto. Quando arriva al suo capolavoro dice questa cosa è molto bella. E allora guarire i cuori delle cose, delle persone e curare le cose belle, aggiungerei, penso che fa parte del mio ministero. Lei ha detto un frammento di bellezza e bontà. Quando però i ragazzi si sono accorti della bellezza, che poi era lì, era sotto i loro occhi da tantissimo tempo, forse lei ha introdotto la questione di quasi un filtro per far arrivare ai ragazzi la bellezza che li circondava forse da quando erano nati. Sì, diciamo che vivere in certi luoghi significa portarlo dentro, a un certo punto devi soltanto spolverare, soltanto farlo uscire fuori. Per loro il meccanismo di comprendere che cosa stava sotto i loro piedi, diciamo, è stata quella lezione importantissima, previa a qualunque tipo di studio, che è il viaggio. Nel libro c'è un capitolo proprio, che a un certo punto parla che i ragazzi sono stati presi e portati fuori dal ghetto, in una maniera a volte anche violenta, forte, nel dire vai, anche se non hai voglia, provaci. E hanno viaggiato moltissimo, soprattutto quelli che oggi sono, diciamo, potremmo dire, sono tuicoitane, ma sono la classe dirigente, perché è ancora giovanile l'assetto dei dirigenti. Hanno avuto la capacità di andare poi a scuola, ma prima della scuola hanno viaggiato il mondo, hanno visto l'Europa, hanno visto i paesi del Nord Africa, hanno visto il bello e hanno detto, ma ce l'abbiamo anche noi. E quando vedevano il bello nelle altre città, che generava anche ricchezza, hanno detto, ma il nostro bene non è un bene da guardarcelo, da contemplarcelo, non dobbiamo adorare le nostre catacombe per la polvere che tengono, ma può essere qualcosa di generativo. E questo ha creato questa voglia, questa voglia di rompere attraverso il turismo, ad esempio, la marginalità. Non è soltanto un discorso fine a se stesso, non è un discorso storico-artistico che finisce lì. Se non si dà la generatività a questi monumenti, li si fa soltanto morti. La cosa bella poi è che questi ragazzi sono tornati, sono tornati in un ghetto del Sud che è sempre molto difficile. Sappiamo quanto sia difficile, anche molto sentito il problema della fuga dei cervelli da questo pezzo del mezzogiorno. Però la sanità poi sono ritornate a vivere le catacombe, un'orchestra ha cominciato a muovere i suoi primi passi, un'accademia di teatro, una sala di incisione. Così si è cominciato a produrre anche ricchezza, cultura, bellezza. Questo è stato, come dire, un passare dalla teoria alla pratica di quello che forse diceva anche Dostoievski, che la bellezza salverà il mondo. Vi siete un po' ritrovati, siete passati dalla teoria alla pratica attraverso la vita, la vita che poi è passata nelle esperienze e in tutto quello che poi i ragazzi hanno messo di loro. Sì, ci è piaciuto semplicemente andare a chiedere aiuto al nostro passato per organizzare il futuro. Questo è nella nostra storia, la nostra storia nazionale, la nostra storia di Napoli. Se penso a un modo di fare economia, io non posso non pensare alla prima facoltà di economia al mondo che nasce a Napoli dal mio collega Antonio Genovese, collega non per economia perché era prete, dove in effetti lui parla già in quel momento così bello di economia felice, di economia di comunità, di economia di condivisione. Questa è l'economia reale, non la finanziarizzazione di tutto, compreso l'arte, che finanziarizza anche i cuori delle persone, ma quello che è lo scambio vero, reale, quello che si faceva nei mercati del Quattrocento, quello che ha accompagnato il rinascimento italiano, quel tipo di economia e quel tipo di umanesimo hanno interesse, perché se l'umanesimo non diventa umanità, è morto. Alla sanità la cultura non si è limitata solamente alla bellezza, all'equalificazione sociale, al recupero anche dei cuori e delle anime, ma si è fatto anche profitto e lavoro. 80.000 visitatori paganti all'anno, le catacombe, più di 60 persone che lavorano in tante cooperative, che poi si sono anche riscoperte, fornitrici di servizi per aggiustare l'illuminazione delle catacombe. Suo padre sarebbe molto orgoglioso di lei, vedendo questo successo imprenditoriale che poi ha avuto al corso della sua vita. Penso lo è, anche se sta all'altro mondo, perché penso che ci guardano e sorridono. Certamente sì. Abbiamo avuto degli scontri, come dico nel libro, perché abbiamo preso vie diverse, ma alla fine sono le stesse strade. C'è chiunque fa l'imprenditore come mio papà, se non è eccezione, come spesso abbiamo ultimamente avuto la sfortuna di conoscerli, non tanto imprenditori, ma apprenditori. L'imprenditore di per sé genera beni e servizi, quindi a un certo punto la mia vita e la sua si sono equiparate sullo stesso piano. Una parola molto importante che ricorre anche nel racconto che è stato fatto della rinascita del Rione Sanità è il riscatto. Lei ha detto in un'intervista, le chiese sono case di accoglienza, di pace, di progettazione, in una società perfetta tutti quanti dovrebbero in qualche modo collaborare alla buona riuscita di un progetto sociale. Però al Rione Sanità la chiesa è arrivata. È un po' strano. Non lo so dire se è strano. So dirti che certamente è una di quelle realtà che è presente nella nostra nazione un po' ovunque. Forse anche quello nel ghetto ha permesso di custodire, non dico il cattolicesimo, che è una cosa molto settaria, molto da club, ma un sentimento religioso. Al sud e in certi posti quello che è il sentimento del sacro resta in maniera molto forte nelle persone. Forse è bastato soffiare su quella scena per far uscire del fuoco, forse è bastato utilizzare questo rispetto che hanno per il sacro per poter parlare con loro. In ogni caso penso che ovunque, come chiesa, il nostro ruolo è quello di guardarsi intorno e fare compagnia, accompagnare le persone e rispondere se si può ai loro bisogni. A me in quel posto sembrava che le risposte potevano essere queste. Forse anche alle domande la chiesa ha risposto in maniera perfetta. Poi molto spesso non succede così perché ci sono territori che vengono inascoltati. Molto probabilmente anche quello del nostro territorio di Capitanata, l'indimenticabile Ermanno Rea nella sua Nostalgia, un libro pubblicato postumo alla sua morte, che racconta forse anche un po' della vita di Don Antonio, ha scritto e ha detto in un'intervista al Messaggero, se c'è riuscito un parroco di quartiere povero e derelitto, perché non ci può riuscire un sindaco che ha più mezzi di creare una speranzella? Ecco, lui parlava di De Magistris, però evidentemente alludeva al tema della politica. è un tema importante, il tema della politica. Lei quando morì due anni fa un ragazzo disse in questo pezzo di mezzogiorno ci servono più docenti, ci serve più scuola, ci serve più cultura che polizia. Ma la politica dove è andata? Vi siete sentiti abbandonati? Voi dite spesso che giocate contro per vincere tutte le partite. Come vi siete rapportati con le pubbliche amministrazioni, con la politica che molto spesso abbandona queste situazioni, scappa, gira la testa? Premesso che facendo quello che facciamo facciamo politica, penso che le persone che normalmente hanno la titolarità, anche il tempo e anche lo stipendio per farlo, forse ultimamente sono prese da un grande male che dovrebbe abbandonarci, che noi fortunatamente non abbiamo vissuto in quest'anno, il male della contrapposizione. Noi viviamo in questo momento soltanto che una persona riesce a parlare solo se è capace di schiacciare o di offendere qualcun altro. Abbiamo un'Italia che si sta spaccando, si sta dividendo e le forze di ognuno sono soltanto l'andare contro qualcuno. Noi non abbiamo ritenuto opportuno, perché non ci viene dal cuore vivere questa modalità, faccio un esempio. Vivere contrapposto significa perdere molto tempo. A volte mi dice qualcuno, tu fai l'orchestra, fai l'antica murra, fai l'antico questo e quell'altro. Io non ho mai pensato di essere anti, dico sempre se succede una cosa del genere è una conseguenza, ma è indiretta, non è diretta. Io penso che al mondo ci sia, dobbiamo esserci e ci siamo soltanto per fare qualcosa per qualcuno, non contro qualcuno. Che poi questa qualcosa per qualcuno possa creare una difficoltà a chi fa qualcosa di sbagliato, chi ben venga, ma alzarsi la mattina, organizzarsi a dire io con te non ci parlo, non è una buona per guardare al futuro della gente. E in questo momento i nostri politici li vedo più impegnati a bisticciare che a governare. Questa è una predica che viene da un parroco di strada, che la strada poi la conosce, quanto però è distante dal suo punto di vista, in termini anche numerici, la politica, la classe dirigente, poi dalle questioni che non sono fumose. Non sono fumose, perché poi quello che si traduce nella vita di tutti i giorni è pratica, è vita nella sua più sfaccettatura più pratica. Non lo so, io sono ormai quasi vent'anni, giustamente dicevi, sono in quel posto, certi momenti li abbiamo avuti addirittura contro. Quindi c'è stata una difficoltà anche nell'avere non una collaborazione che forse era troppo, ma non un ostacolo addirittura. Adesso sono un po' più teneri. Certo l'unica attenzione che vedo è quella di infilarsi per mettersi il cappello al momento opportuno. Io dico va bene pure quella, però incominciassero ad avere spalle e testa per poter portare certi cappelli così impegnativi, altrimenti diventa qualcosa di tristissimo. Quando senti parlare della bellezza e della povertà, una persona che sta piena d'oro, dice c'è qualcosa che non funziona. Qualcosa che non quadra. E allora quando pensi che si parla di umanità e si trascura anche il trasporto dei disabili, incominci a vedere che qualcosa non funziona e c'è qualche follia in giro. Noi siamo quasi alla fine, le faccio vedere la foto della settimana che non c'entra con il tema, eccolo qui. È il funerale di Emanuele Morganti, il delitto di Alatri. Una storia tristissima per il nostro paese, una storia che forse si consuma anche nella fragilità delle vite che si consumano e vengono fagocitate dalla periferia. Dove abbiamo sbagliato come sistema? Dove abbiamo sbagliato come comunità? Ecco, hai fatto una bella domanda, ti sei posto la vera domanda ogni volta che succede una cosa del genere. Che responsabilità abbiamo noi? Cosa abbiamo fatto di sbagliato? Ce lo siamo chiesti quando è morto il ragazzo in strada, era facile rispondere, è stato la camorra, era troppo facile. Io penso che dobbiamo realizzare il paradiso in terra, è questo il nostro impegno e allora significa lavorare su tutti i fronti, capisci com'è bello lavorare con la cultura, con la scuola, con lo sport, ovunque dobbiamo veramente cercare di portarci il cielo in terra. Per me che so prete è facile, io ho un programma, ho una visione ed è ambiziosa, io ho la visione che la Gerusalemme del cielo, questo mondo nel quale non c'è dolore, non ci sta differenza, ma c'è soltanto bellezza, pace e luce, è quello il mio progetto e so che purtroppo fin quanto saremo qua noi non potremo mai raggiungerla e questo ci rende più ambiziosi a volte, ancora, perché ci permette sempre di ricominciare da capo e non essere mai soddisfatti di nessun traguardo. Forse non dovrebbero essere anche soddisfatti di questa nostra società. Un popolo in cammino è l'ultima parola del nostro discorso e la faccio preannunciare da un video brevissimo, lo guardi. Da casa mica su Re 2 l'ho vista emozionata, i suoi ragazzi della Sanità Ensemble sono andati, sono stati ospiti di tantissimi concerti, anche di personalità importanti, però qui avevano una ribalta nazionale, fa sempre molto piacere poi vedere come anche il contesto più globale riesca ad accorgersi di queste realtà. Lei cita nel suo libro Martì Lutero e dice, Martì Lutero, una famosa citazione, dice se anche sapessi che domani è la fine del mondo non rinuncerai a piantare un albero di mele. La rassegnazione, la rinuncia non bussa mai alla porta di Don Antonio. Beh, certo, ci sono dei giorni nei quali ti verrebbe di scappare, no? Però, non lo so, a me non finisce mai la giornata, non vorrei essere dicimo scontato, ma non finisce mai la scontata la giornata se non mi raccolgo e cerco di trovare il senso del mio vivere, no? E resto del suo prete. E quindi non posso mai dimenticare che colui un giorno è risorto da morte, ha fatto una cosa imprevedibile e in attesa, perché nessun altro l'ha mai fatto, possa con questa speranza io vincere ogni cosa inevitabile. Noi siamo circondati da molti inevitabili. Per me l'imprevisto e l'imprevedibile per eccellenza è la risurrezione di Gesù. Mi dà quella forza per non avere mai sconforto e dire che stasera pianterei tranquillamente il melo, che so ci vuole molto anni per crescere, anche se domani viene la fine del mondo. Cosa sogna Don Antonio Loffredo? Io sogno una città più bella, più all'altezza delle persone che la abitano, perché ho avuto il piacere di essere prete nella mia vita qui sulla terra e di conoscere spesso il cuore e la bellezza dell'umanità della mia gente. E a volte penso che veramente ha sofferto tanto nei secoli. Non so se è questa che l'ha resa più bella, però vorrei avere giorni di pace e di bellezza per la mia gente. Io le auguro che lei possa continuare questo suo lavoro. Grazie per essere venuto qui a Teleblu. Io ricordo noi di Arironi Sanità, Antonio Loffredo, Mondadori, racchiuso un po' di quello che hanno realizzato in questa bellissima storia, bellissima esperienza. Grazie per la sua testimonianza e buona vita. Noi ci vediamo subito dopo la pubblicità con Piazza Social. E questo era lo spot del gruppo Salato che accompagna Piazza Social e accompagna anche Teleblu. Siamo direttamente nel vivo della seconda parte della nostra terza puntata, dalla politica dei quartieri, dei rioni che vi abbiamo raccontato con Don Antonio Loffredo. Adesso partiamo ed entriamo nel vivo della partita nel congresso del Partito Democratico. Io sono molto contento questa sera di dialogare con un parterre che abbiamo scelto con accuratezza, perché è un parterre femminile con un giornalista di casa a Teleblu per parlare dei primi dati per quanto riguarda il congresso del Partito Democratico e le primare che si svolgeranno il 30 aprile prossimo. Quindi fra non molto io vi comincio a presentare i nostri ospiti, a cominciare da Patrizia Lusi che qui a Teleblu viene a rappresentare la mozione di Michele Migliano. Benvenuta. Benvenuta, grazie a voi per l'invito. Poi saluto Enrico Ceccarelli che è un volto storico di Teleblu, un giornalista foggiano conosciuto, grazie Enrico per essere intervenuto. E poi Rosa Ciccolella per quanto riguarda la mozione di Matteo Renzi, benvenuta e ben trovata. Grazie, grazie a voi per l'invito. E Simona Gaudiero che arriva da Cerignola e rappresenta la mozione di Andrea Orlando. Come avete visto sono i tre contendenti che si sfideranno all'ultimo colpo per quanto riguarda la segreteria del Partito Democratico e noi adesso facciamo una breve carrellata dei dati, dei numeri, di quello che è successo in Capitanate in Italia nell'ultimo weekend a cura di Elena Nigro. Un'estate fa, solamente un'estate fa, in attesa del referendum del 4 dicembre erano tutti i renziani. Pochi mesi dopo, nella primavera dominata dal congresso del Partito Democratico, in programma il prossimo 30 aprile, il quadro politico all'interno del maggior partito italiano di sinistra è leggermente cambiato. Fuori da Lema, Bersani, Speranza e Rossi. Dentro, in una sfida all'ultimo voto, Renzi, Orlando, il suo ex guarda sigilli ed uno dei piacerimi nemici dell'ex premier, Michele Emiliano Dabbari, attualmente governatore della Puglia, prima intenzionato ad andar via, poi voglioso di combattere la partita del cambio di passo della sinistra italiana all'interno del PD. A pochi giorni dal congresso, i circoli nello scorso weekend hanno già fornito un primo quadro politico. Renzi vince con il 66,73%, Orlando si ferma al 25,6%, mentre Emiliano arriva terzo con l'8,01%, scongiurando ogni malaugurata sorte di non arrivare alla soglia minima del 5%. In capitanata stessa classifica Renzi, Orlando, Emiliano. Nella capitanata di Elena Gentile vince Renzi con il 36,3%, posizionandosi primo dopo Andrea Orlando, che nel fortino da uno di Michele Bordo riesce a raggiungere il miglior risultato della Puglia, complice alla fedele e compatta Manfredonia. Nella capitanata di Raffaele Piemontese, assessore al bilancio, Emiliano rimane ultimo, con uno dei risultati peggiori dell'intera Puglia. Riusciranno i civici di Leo Di Gioia a ribaltare il risultato? Vedremo. Intanto, vincitori o vinti? Cosa modificherà la gente? Le primarie aperte? La sinistra al voto? Nulla o forse tutto? Nulla o forse tutto? Modificare la gente? Le primarie aperte al voto? Vedremo. Io comincio prima di sentire i nostri ospiti con la rassegna social, perché su questi primi dati c'è stato davvero tanto clamore sui social e vediamo una piccola rassegna, un primo blocco. Eccola qui Elena Gentile, che ha vinto la prima partita importante, dice che il lunedì è da sempre il giorno dedicato ai commenti sportivi. Gli italiani, risaputo, sono un popolo di commissari tecnici, oggi eccezionalmente anche di analisti politici. I numeri sono numeri, nel calcio come nei congressi. Buona settimana a tutti e a tutte. Poi c'è Antonella Caruso che analizza tanto e quella, diciamo, la parte più interessante, dice che ora si apre la partita delle primarie alla quale possono partecipare i cittadini e sarà interessante vedere il risultato. Se Semiliano in provincia di Foggia, a differenza di ieri, vincerà, allora il risultato confermerà che in Capitanata, il peso specifico dell'elettorale e dei civici di Leonardo Di Gioia, è determinante. Questa volta non si potrà recriminare. Ancora avanti, eccolo qui, guardiamo Giuseppe Meniero, il solito PD di Capitanata, nessuna battaglia, solo accordi per non pregiudicare nulla per il futuro. In pratica 33, 33 e 33. Nessuno slancio, nessuna novità. Roccofreda, oggi sono tutti renziani, lo ricordava anche Elena Nigro, tesserati PD e vincitori. Anche chi non è mai stato tesserato, non è mai stato sostenitore di Renzi. Del resto funziona così, si sale e si scende al momento opportuno dal caro dei vincitori nella vita e soprattutto nella politica. Ancora avanti, l'ultimo e uno dei penultimi, Matteo La Torre, anche in provincia di Foggia, nonostante gli intrepiti cambi di scasacca, premia Renzi con più di 2.000 preferenze. Ora dobbiamo lavorare e ripartire da questi risultati per raggiungere il 30 aprile. L'ultima conclusione delle convenzioni, Luca Grieco, il mio pensiero va all'iscrittia noi giovani democratici, a tutti i dirigenti, a questa grande comunità democratica, l'unica che può festeggiare questi momenti di democrazia. Oltre questo eccesso di buonismo, la democrazia che poi è anche vero, anche il segretario provinciale Raffaele Piemontese ha osannato questa prova di democrazia. Enrico, come è andata? Renzi ha vinto questo primo step, in dubbio. Sì, Felice, i numeri dicono questo, anche se va detto che per quanto riguarda invece i delegati eletti è stata la mozione Orlando a prevalere per i meccanismi interni. Io penso sia doveroso da parte mia premettere che sono un giornalista e un osservatore, ma sono anche un iscritto al PD e un sostenitore della mozione Renzi. Cercherò di astrarre da questa mia posizione, ma penso che per onestà sia giusto dichiararlo in apertura di trasmissione. A me pare che abbia ragione l'ultimo commento che voi avete riportato. Una grande festa di democrazia in cui anche rispetto alle precedenti esperienze abbiamo visto un'inversione del paradigma della politica meridionale. È noto che al sud il potere genera il consenso e non il consenso genera il potere. In questo caso mi pare che il risultato fortemente equilibrato fra i tre schieramenti permetta di parlare di un voto libero, di un voto non influenzato immediatamente e direttamente da aspettative. Qualcuno ha detto che si è giocato a non farsi male. La condividi questa opinione anche diffusa nel territorio di Capitanale? Diciamo che a me sarebbe sembrato strano il contrario. Nell'ottimo servizio di Elena Nigro che avete mandato in onda. A un certo punto si parla di nemici. Io non credo che una forza politica in cui tutti si riconoscono possa avere nemici. Ci saranno dei competitori, ci sono delle grandissime differenze ed è bene che se ne discuta. Però per quel che mi riguarda io ho assistito ad una interessante e civile discussione in cui le persone hanno potuto dire la loro e hanno espresso il loro voto. Dico anche per quanto riguarda quello che dice Antonella Caruso che a me pare scontatissimo che alle elezioni, ai gazebo, il risultato sarà diverso. Lo fu anche nel 2013 quando Renzi arrivò terzo nelle convenzioni dei circoli e primo alle primarie aperte. Penso che questa volta Emiliano avrà modo di ribaltare questo risultato non fosse altro che per la sua immanente presenza sul piano locale. Sul piano locale e sul piano territoriale. Adesso parleremo anche della presenza del governatore Michele Emiliano con Patrizia Lusi. Però prima Rosa Ciccolella. Questa è stata, come diceva Enrico Ciccarelli, sì, una vittoria di Renzi con dei buoni risultati anche per gli altri competitor. Come si riverbera il dato politico di Matteo Renzi all'interno anche di quella che poi saranno le primarie aperte a tutti in provincia di Foggia? Ma io ritengo che partire dal dato ultimo sia galvanizzante insomma quando meno. Nel senso che si partiva da un'aria che non era sicuramente un'aria favorevole, nel senso che si respirava comunque dopo il 4 dicembre un clima di sfiducia. Diciamo che sostanzialmente la tornata del referendum è stata una tornata anti-Renzi per cui abbiamo dovuto lavorare anche sull'elettorato per ridare fiducia perché ritengo dal mio punto di vista che abbiamo perso una grande occasione al 4 dicembre. Dal mio punto di vista noi avevamo una base costituzionale che non intaccava i diritti. Avremmo potuto sveltire molto da quella che è tutta la burocrazia che quindi lega il paese e la insabbia mi sembra evidente che l'anti-Renzi ha funzionato ma è un messaggio che anche noi che appunto ci cominciamo a muovere per questo 30 aprile dobbiamo recepire e dobbiamo sicuramente elaborare per poter appunto riconnetterci con il popolo del PD che vuole Matteo Renzi segretario. Però è una connessione sentimentale che appunto va in questa direzione cioè con chi condivide un programma del Partito Democratico voglio un segretario di Casemia scelto dalle mie sensibilità non da chi passando lascia due euro vota per rafforzare una mozione e poi il PD non lo votere mai o addirittura col centro-sinistra non si riconoscerà mai. Quindi bisognerà come un mantra continuamente ripetere che lo statuto dice che ci deve essere una sensibilità verso il nostro programma verso la nostra idea e che onestamente bisognerà attirare diciamo chi su questa linea si ritrova perché altrimenti andiamo verso la costruzione di un partito farlocco insomma francamente non mi interesserebbe molto. Un partito farlocco, questa qui è anche un dato Patrizia che sostiene la mozione di Michele Migliano c'è stato sicuramente un ottimo risultato, era la tentazione, lo diceva bene Elena Nigro, la tentazione del 5% poi l'avete ribaltato a livello nazionale, in provincia di Foggia siete arrivati terzi. Quello che dice Rosa Ciccolella ovvero il partito che guardi anche al suo interno e guardi anche ai confini della sinistra Michele Migliano noterà in considerazione o guarderà, sappiamo che è una persona, lo sappiamo anche in Puglia le sponde con i civici, anche con il Movimento 5 Stelle, i continui dialoghi come vi state preparando e come si sta preparando anche il Presidente Migliano? Intanto le primarie aperte per la scelta del segretario nazionale non è una cosa che sarà decisa adesso ma è una cosa che esiste nel Partito Democratico già da un po', già da tempo per cui se è stata legittimamente votata e sostenuta anche in altri momenti storici ci ritroviamo noi con questo dato di fatto. C'è poi da dire che dal mio punto di vista invece è un'ulteriore assunzione di responsabilità che il Partito Democratico fa non solo nei confronti dei suoi iscritti ma anche nei confronti di tutti i cittadini italiani atteso che comunque il Partito Democratico con tutte le nostre contraddizioni tra virgolette con le battaglie interne resta di fatto l'unico partito strutturato e abbiamo sempre detto che in tutte le province italiane, in tutte le città italiane c'è la stazione dei Carabinieri, la farmacia e una sezione del Partito Democratico quindi raggiungere la cittadinanza, raggiungere i cittadini essere così dentro alle questioni proprio cittadine oltre che provinciali, nazionali e regionali è difficile per una qualsiasi altra forza politica quindi, ripeto, è un'assunzione di responsabilità che ovviamente il Presidente Emiliano ha fatto dall'inizio della sua carriera politica lui ha iniziato il suo percorso politico in quanto sindaco di Bari candidandosi in una lista civica all'inizio poi il secondo mandato come scritto al PD, il Presidente del PD ed è stato chiamato dal Partito Democratico e dalle altre forze del centro-sinistra a partecipare ad una competizione aperta io non vedo e non ho mai visto forse perché aderisco completamente alla sua visione, alla sua impostazione politica non ho mai visto i cosiddetti civici come ostacolo intanto c'è stata una fase di tesseramento e in questa fase del tesseramento i civici non si sono tesserati avrebbero potuto farlo, non l'hanno fatto per cui probabilmente non è più una preoccupazione nostra che i civici vogliano impossessarsi del partito abbiamo avuto altri ingressi anche di altre forze politiche soprattutto in Foggia Città per esempio non sono stati contestati questi altri ingressi anzi li abbiamo accettati volentieri e lì non si è trattato di 4-5 persone senza un'ideologia politica si è trattato di una fetta di un partito che ha aderito ad un altro partito politico senza che poi questa adesione sia stata non dico non legittimata dal partito stesso però quantomeno discussa all'interno del partito perché una cosa è che un gruppo di cittadini decide di farsi la testa del partito democratico una cosa è che una formazione politica si trasferisca all'interno di un'altra formazione politica e che ci faccia sapere rispetto ai grandi temi e rispetto alle grandi questioni qual è il loro punto di vista per amalgamare il loro punto di vista al nostro punto di vista cioè al punto di vista del partito democratico Saranno come dire le persone che sono fuori dal partito a determinare la vittoria di Michele Migliano in Capitanata, in Regione Puglia, a livello nazionale? Saranno tutti i cittadini italiani che sono chiamati a votare per le primarie come da statuto del partito democratico? Il risultato in provincia di Foggia vi ha allarmato? Il risultato in provincia di Foggia non avrebbe mai potuto allarmarci perché la provincia di Foggia da sempre, non solo in questa occasione è sempre stato uno snodo centrale fondamentale del centro-sinistra c'è la presenza dell'onorevole Bordo ad esempio a sostegno della candidatura di Orlando non è una presenza di un esponente politico qualsiasi che appoggia una mozione secondo me avrà anche contribuito lui personalmente alla scelta di Orlando di candidarsi però anche su Emiliano c'erano belle carte che si sono spese non c'è dubbio però ricordiamoci sempre che Emiliano in questa fase è colui il quale governa per cui andare contro chi governa perché magari tante questioni anche di carattere pratico non si sono ancora risolte non sono state discusse ma non sono state le decisioni prese non sono state accettate insomma chi governa ha sempre una parte della popolazione però questa qui è una faccia a favore e un po' contro chi lo diceva bene Enrico chi investe il potere su un territorio evidentemente ha due lati della medaglia Simona, Patrizia parlava della scelta di Andrea Orlando che qui nella provincia di Foggia ha avuto l'exploit sicuramente grazie alla presenza di Michele Bordo del gruppo dei Sipontini dopo parleremo anche di Manfredonia e Cerignola dove ci sono state delle votazioni abbastanza frenetiche potremmo dire a bit estremamente ritmati perché la scelta tu rappresenti i giovani democratici che hanno sostenuto diciamo in blocco nella maggior parte l'identikit e il profilo politico di Andrea Orlando innanzitutto perché poi questo risultato come lo vedete alla luce anche dello scenario politico di Capitanata com'è andata? Sì innanzitutto io mi sento di spegnere un po' di buttare un po' di acqua sul fuoco nel senso che mi pare un po' una guerra fraticida alla quale non mi sento di voler unirmi perché non ritengo innanzitutto chiunque sarà il segretario dal primo maggio in poi è il mio segretario e sarà il segretario del mio partito mettiamo in chiaro questo punto secondo io ho letto tutte e tre le emozioni qualcuno le ha lette le emozioni ho sposato l'idea ho sposato il progetto ho sposato soprattutto il fatto che il 4 dicembre a me personalmente ha dato delle risposte lo ha fatto alla giovanile del partito attenzione vogliamo entrare nel merito del referendum vogliamo dire che quel 60% ha votato no perché ha votato contro il personalismo contro la persona di Renzi va bene può essere una lettura iniziale che a chi voglio dire dirigente del partito serve veramente a poco perché io come rappresentante di una giovanile all'indomani di questo referendum quando mi sono presentata in direzione provinciale ho detto ragazzi l'80% dei giovani ci ha detto no allora qui chi stiamo a rappresentare perché se devo rappresentare me stessa voglio dire nell'urna uno vale uno quindi non mi serve erigermi o comunque non mi serve la carica istituzionale serve più che altro cercare di capire cosa è successo una campagna referendaria e mi permetto di dirlo per quanto riguarda Renzi perché ho mille giorni di governo e ho un ex diciamo segretario uscente quindi mi permetto di valutare quello che è stato ad oggi il suo operato un segretario che tra virgolette ci parla di instabilità noi giovani che viviamo il mercato del lavoro sulla base dell'instabilità credetemi è un po' controcorrente c'è un po' un cortocircuito da questo punto di vista un segretario che nell'intervista in un'intervista a Fabio Fazio dice sono tornato dall'America ho scoperto l'app beh io dico che a Orta Nuova un gruppo di ragazzi ha vinto un bando perché ha mappato tutte le associazioni culturali e non presenti sul territorio quindi lo vedo un po' anacronistico rispetto ai tempi e ciò che mi ha portato ad appoggiare la mozione di Orlando lui lo pone in chiusura del suo programma io lo metterei proprio all'inizio la convivenza di due persone cioè del segretario e del premier in un'unica persona per me non regge ed è quello che ci hanno detto le persone quando vai ad ascoltare i circoli perché l'ascolto risulta fondamentale secondo me cioè i circoli ti hanno detto c'è uno stacco totale rispetto è normale che il premier debba portare avanti delle riforme che saranno invise dalla maggior parte della popolazione quindi voi criticate anche la posizione di Michele Emiliano nel doppio ruolo c'è esatto un doppio ruolo questo scontro di interessi che porta ad allontanarti da quelli che sono effettivamente i bisogni i problemi il partito deve ritornare un po' a quello che era il suo diciamo la sua iniziale missione deve essere passami il termine la Polonia la parte un po' neutrale deve attutire i colpi ma deve in un certo senso anche portare avanti una linea politica che inevitabilmente chi è nell'apparato amministrativo per riforme che saranno invisi oppure no ripeto alla maggior parte della popolazione deve capire anche che la linea deve essere una e soprattutto l'apertura permettetemi di dire non può essere dalla larga intesa non lo accetto io ho un problema di identità oggi mi chiedo chi sono chi rappresento e voglio essere di sinistra quindi la mia apertura deve essere a sinistra quindi l'apertura a sinistra è nella persona di Andrea Orlando io vorrei con Enrico dialogare anche su questa questione qui del doppio incarico perché siamo seduti anche posizionamente con Emiliano che vorrebbe fare il segretario però è presidente della regione Puglia Matteo Renzi che ha rivestito anche il ruolo di segretario e presidente cosa ne pensi? Fermo restando l'ovvio rispetto per tutte le opinioni però ci sono alcune cose che vanno dette innanzitutto la previsione statutaria dell'identità fra segretario e candidato premier che non è necessariamente fra segretario e premier però è stata inserita nello statuto del partito democratico anche in virtù di una riflessione che viene da Walter Veltroni non è una cosa che è nata oggi a proposito della vocazione maggioritaria del partito democratico è ovvio che tutto può essere discusso però attenzione a credere che si possa isolare questa previsione che è peraltro comune alle grandi socialdemocrazie europee e metterla lì come una cosa svincolata dalle altre bisogna attestare poi il partito democratico in una logica neoproporzionalista insomma secondo ripeto tesi illegittime che però vanno la messa va accantata per intero allo stesso modo è verissimo che alle primarie può votare qualunque cittadino italiano che versi due euro ma è un cittadino italiano che deve sottoscrivere l'impegno a votare per il partito democratico e per le sue politiche quello che diceva Simona credo all'inizio mi sembra sacrosanto i congressi si fanno non per decidere chi caccia via quell'altro o chi se ne va il giorno dopo ma si fanno per decidere chi avrà la leadership che è innanzitutto un onere più che un onore e quale linea politica dovrà incarnare da questo punto di vista a me pare che la correzione più importante che ha fatto Renzi dopo il 4 dicembre sia stata nella come dire incarnazione fisica di una leadership plurale la chiamiamo mozione Renzi ma in realtà la mozione Renzi-Martini questo al di là di quello che si pensa della mozione però credo di a un'indicazione assoluta l'idea dell'uomo solo al comando se mai qualcuno ce l'ha avuta però è una idea che non può funzionare in una comunità politica grande e moderna come il Partito Democratico penso che si debba partire da questo dalla necessaria pluralità perché se ognuno si mette nella sua cabina allora sinceramente non c'è opzione centrosinistra larga intesa c'è solo lo sfascio grillino e il rischio per la democrazia perché non ci dimentichiamo mai che il Partito Democratico è innanzitutto il principale bastione della democrazia italiana io starei molto attento a trapanarlo su questo per ritorneremo perché abbiamo visto gli ultimi sondaggi gli ultimi sondaggi che danno anche il Movimento 5 Stelle in forte in forte rialzo io adesso continuerei anche un po' con quello che la rete ha detto ecco qui qui ritorna Antonella Caruso citando il chiamando in causa il sindaco di Manfredone Angelo Riccardi che era rimasto anche un po' sul dietrofondo non dicendo per chi avesse votato e fatto votare dice Angelo Riccardi i risultati bulgari hanno sempre un pericoloso retrogusto il sindaco risponde appunto sempre io guardo i dati della nostra provincia la Caruso risponde a pensare i dati di Manfredonia e Riccardi risponde tutti sanno che questo congresso non mi ha emozionato né coinvolto ripeto i dati sono leocuenti lui in un altro post dice i dati parlano da soli c'è poco da commentare nemmeno Giulia Cinquetti ha funzionato è posta e qui comando io sempre riferito a quello che è successo a Manfredonia Lucia Piemontese giornalista dell'attacco convenzioni PD nelle scorse settimane rinziani di Manfredonia dicevano che il sindaco Angelo Riccardi stava cercando di portare acqua al mulino dell'ex premier il giorno del voto lo stesso Riccardi ha fatto sapere che è rimasto fermo non si è speso ieri ho letto un'intervista al segretario cittadino in cui Riccardi indicato come orlandiano mettetevi d'accordo Michele Salatto che è del Partito Democratico di Foggia dice solo un'informazione visto che è un dato che non riusciamo a sapere neanche in commissione provinciale per il congresso ma quanti sono i GD che hanno votato a Manfredonia il dato è certamente interessante visto che hanno votato oltre il 100% degli iscritti in 4 ore uno ogni 15-20 secondi mostruoso si sa che i giovani sono rapidi si si sa che i giovani hanno capacità hanno capacità evidentemente molto più molto più sprint e molto più free è una prova di democrazia anche questa cioè lo stesso Partito Democratico che vi state raccontando che avete raccontato qui Manfredonia Cerignola dove la maggior parte la stragrande maggioranza ha votato per Matteo Renzi Manfredonia dove 900 persone hanno più di 900 persone hanno votato per Orlando in un lasso di tempo di 15-20 secondi lo stesso Partito Democratico che cercate di raccontarvi cercate di portare alla luce questo diciamo che è stata una giornata abbastanza densa ecco diciamo così Manfredonia la conosciamo è un esercito ben organizzato loro sono sono fatti così diciamo che democraticamente è una democrazia un po' tutta 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 loro direi quasi plebiscitaria ma senza riferimenti a Napoleone che voglio dire col plebiscito eliminava il dissenso però voglio dire una democrazia molto 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 corta che comunque va rispettata perché c'è una organizzazione che va riconosciuta e va assolutamente rispettata nella organizzazione quindi non è detto che loro siano riusciti a portare al voto in maniera organizzata tanta gente detto questo io ritengo che il Partito Democratico ormai ha preso anche una modalità d'uso diciamo in queste in queste occasioni siamo piuttosto oleati e funziona anche così resta però il fatto che dopo tutto quello che è avvenuto dopo i 5 stelle che hanno soffiato contro un partito che è morente contro un Renzi che ormai che lasci la politica che se ne va stanno ogni giorno a dirci tutto quello che non va sto attendendo che ci dicano cosa bisogna fare perché insomma hanno preso un lontano 25% e a quello che ricordo insomma Bersani che oggi ci ha salutato non è riuscito neanche a conversare con loro ma quindi voglio dire probabilmente quella giusta aspirazione rabbia sociale che in quel momento erano riusciti a canalizzare non sono riusciti però a capitalizzare quindi voglio dire al di là di tutto io ritengo che il dato è il dato che noi ci siamo riavviati nella costruzione di un partito e di una leadership che io ritengo in questo momento dal mio punto di vista almeno è una leadership che non alternativa in Italia proprio per quello che diceva Simona cioè nel senso io la leggo proprio diversamente mi sembra evidente che loro leggano Matteo Renzi nella fase operativa Matteo Renzi ha toccato quei temi a cui mai nessuno aveva voluto mettere mani perché mettere mani a quei temi significava perdere consenso potrei fare a meno di parlare della scuola perché so benissimo cioè ho litigato io insegno ho litigato con i miei colleghi ho tentato di difendere l'indifendibile lo stesso Matteo Renzi ha ammesso che lì qualcosa non è andato però è la prima volta che si sono messe le mani su questo tema è la prima volta che un tappo è stato tolto forse era meglio non toglierlo sono venute fuori delle bolle non so però è accaduto qualcosa penso alle leggi sui diritti io ricordo questa sinistra sempre riunita in convegnistiche in grandi momenti di sfilate però poi stringevamo su che cosa su diritti che non erano stati poi portati a casa adesso li abbiamo portati a casa i giovani Simona sono d'accordo con te che la modernità e le app non ce le deve venire a insegnare diciamo nessuno in questo momento però io penso che mai come ora si è parlato di giovani di cultura di Europa questo entrare in Europa a testa un po' alta senza con questa forma di sudditanza voglio dire sono tutti temi che dal mio punto di vista sarà banale però io ho ritrovato abbastanza interessante che i miei alunni mi abbiano detto professoressa le dico come si fa a prendere le 500 euro io ho preso questo ne ho parlato con mio padre cioè voglio dire è un contaminarsi culturale anche a livello c'è un movimento di respiro io vedo in Renzi un toglierci dalle sabbie mobile l'Italia era ferma probabilmente quando ti metti in cammino è più facile che tu cada è più facile che tu faccia dei dati però siamo in cammino una sinistra che si è mossa questo è un po' il dato che viene fuori da quello che dice Rosa Ciconella e che molto probabilmente verrà anche fuori dopo il 30 aprile Michele Emiliano l'Italia è il nostro partito noi siamo partito qual è il partito che state disegnando che comincerete anche a disegnare dai prossimi giorni perché poi Michele Emiliano sappiamo è molto presente in provincia di Foggia è molto presente in regione Puglia però ha un problema sostanziale nelle regioni più a nord da Roma in su si dice come lo descriveresti Patrizia il modello Emiliano che vorrebbe applicare il partito democratico è un modello tra l'altro che è stato sperimentato anche in Puglia e non solo in occasione delle regionali ma anche in occasione di elezioni precedenti di prove di amministrazioni precedenti un modello sicuramente inclusivo sicuramente rappresentativo di tutti gli interessi è un modello di partito che parta io non so se dire parta dai circoli quanto mi sembra più idoneo più adatto dire parta dall'ascolto dei cittadini della cittadinanza cioè di coloro i quali vivono sulla propria pelle le difficoltà quotidiane perché in questi centomille giorni di governo di governo Renzi evidentemente abbiamo perso un po' di vista il rapporto non solo con la nostra base ma abbiamo perso un po' di vista il rapporto con tutti gli italiani per recuperare questo rapporto probabilmente forse non serviranno più i tesseramenti non serviranno più forse solo le riunioni di circolo perché nel frattempo la società è cambiata il mondo è cambiato i ragazzi si relazionano tra di loro e nei confronti del mondo esterno anche con altri strumenti anche con modalità differenti e noi abbiamo il compito il dovere di seguire questo orientamento non devono essere loro a stare appresso a noi ma dobbiamo essere noi come partito ad adeguarci alla loro modalità di comunicare e poi soprattutto dalla comunicazione si deve passare alla riappropriazione di temi nostri di temi che hanno fatto del partito democratico un grande partito di centrosinistra da cui noi oggettivamente ci siamo allontanati perché ci siamo concentrati solo su altre cose però ci sono diceva la scuola i giovani la cultura non sono stati temi che hanno incarnato la scuola diciamo abbiamo fatto tant'è che subito dopo il 4 dicembre si è provveduto a modificare un po' o si è provveduto a dichiarare l'intenzione di mettere mano sulla riforma della scuola quindi evidentemente la lezione del 4 dicembre io dico fortunatamente perché è giusto che sia così alcuni aspetti se permetti è una cosa che conosco abbastanza bene è una cosa che è stata fatta male in alcune cose è stato però affrontato un tema che era fermo fermissimo fare i concorsi voglio dire sicuramente sono d'accordo e c'era parecchio da fare però c'era c'è stata l'esigenza la necessità di rivedere un po' qualcosa non sto dicendo che non è così però l'ha fatto il governo Gentiloni che è un governo di fatto fotocopia rispetto al governo Renzi non è che un governo diverso ma lo aveva messo lo stesso Renzi voglio dire voglio dire semplicemente che noi con un governo Monti dove la Fornero ha fatto quello che ha fatto io non ho visto tutto questo grande agitarsi voglio dire nei confronti del Premier che stava mettendo l'Italia con la corte al collo teniamo sempre presente che noi abbiamo avuto il silenzio dei sindacati il silenzio di tutti in un momento in cui siamo stati in Europa presi a calci o più o meno insomma siamo andati a fare i compiti a casa in Italia facevamo tutto quello che ci veniva detto non alla terza settimana la seconda settimana eravamo in default poi a un certo punto quando abbiamo cominciato ad avere un po' d'ossigeno la ripresa d'aria ci ha fatto dire però voglio questo questo andrebbe però voglio dire chi ha messo in pista il movimento va anche riconosciuto poi alla fine ma possiamo riconoscere però dopo mettere in pista il movimento c'è la costruzione di un programma c'è la costruzione anche di una serie di reforme che devono essere compatibili con le esigenze e le aspettative dei cittadini non è che possiamo limitarci a dire meno male perché tra l'altro Renzi è nato è sorto proprio perché c'era una situazione di stagnazione che era stata determinata anche dai nostri governi anche diciamo e soprattutto anche dalla classe dirigente del nostro partito anche Michele Emiliano è stato uno dei primi a votare Matteo Renzi non è stata una scelta singola diciamo è stata una scelta partecipata con Franceschini è stato io me lo ricordo ancora la domenica mattina di tanto tempo fa quando lui ci chiamò ma chiamò me chiamò tante altre persone cioè non per dire me per dire tante persone che stavano nella sua o aderivano alla sua modalità di pensiero ci chiamò e ci chiese secondo me disse secondo me in questo momento Renzi potrebbe rappresentare la svolta giusta la svolta necessaria voi che ne pensate d'accordo siamo corretti il dato di Patrizia è quello che dice si ha rappresentato nell'atto iniziale una svolta per il paese poi forse ha perso le capacità anche attrattive di una sinistra Enrico è così è una valutazione io penso di no ma naturalmente è una valutazione legittima che ci sta io però farei attenzione cioè rispetto per esempio a quello che sta succedendo nel Salento è legittimo che il presidente della regione Puglia che sta intraprendendo più battaglie legali con il governo alcune gli vanno male altre gli vanno bene ma questo fa parte di un quadro democratico attenzione però perché se gli uffici della TAP a Lecce vengono chiusi per ragioni di sicurezza quello che può succedere nei nostri territori quando si apre la porta all'antistato magari con le più belle intenzioni nessuno è in grado di valutarne appieno le conseguenze allora ma non è che dipende dalle battaglie legali amministrative che la regione Puglia ha fatto però bisogna avere il coraggio mentre si ascoltano i cittadini anche di dire ai cittadini cosa può essere fatto e cosa no che è una cosa che è un campione della legalità come Michele Emiliano anche nella sua vita professionale a mio parere dovrebbe dire con molta maggiore incisività perché dobbiamo sempre tenere una distanza fra il nostro legittimo di senso è un po' come la storia del partito democratico se il partito democratico discute anche animatamente per tornare competitivo questa è una cosa buona se discute per dire chi sono i buoni e i cattivi chi ha diritto di cittadinanza e chi no chi deve restare e chi deve andarsene è già finita questo penso che sia il punto che dobbiamo tenere sempre presente sul punto una replica di Patrizia e poi guardiamo proprio delle cose su Emiliano se vuoi replicare a quello che diceva quello che diceva mi limito a constatare che comunque tutte le battaglie tra virgolette che il presidente della regione ha fatto e intrapreso dall'inizio nei confronti del governo non sono state battaglie personali condotte sul piano personale nei confronti dell'allora presidente del consiglio ma sono state tutte battaglie fatte intraprese su questioni di merito su questioni di sostanza a me le dugno non c'erano non ci sono i fascinorosi ovviamente c'è sempre una percentuale minima di fascinorosi che utilizza quelle occasioni per dare sfogo alla propria rabbia ma purtroppo questa è una realtà però la maggior parte diciamo delle persone che protestano contro il gasdotto contro sono professori professionisti persone normali ambientalisti però converrai Patrizia che ci sono temi che sono venuti un po' fuori all'ultimo momento perché io insomma nel PD ci sto da parecchio non ricordo direzioni regionali dove abbiamo parlato di Xilella dove abbiamo parlato di temi che comunque già erano sul piatto quindi una questione anche più mediatica rispetto agli argomenti abbiamo sbagliato allora comunque abbiamo sbagliato allora non è che sbagliamo adesso a occuparci sono temi che sono usciti abbastanza recentemente ma meno male che siano usciti comunque io parlo di sconnessione non parlavo della bontà sicuramente probabilmente perché ha questo tipo di approccio sicuramente però insomma abbiamo avuto anche dell'altro tempo in cui chi si doveva interessare io non l'ho visto particolarmente preso forse perché ho occupato in altre cose l'importante è che sia chiaro che la legalità c'è sempre non c'è solo prima non era lui il presidente della regione mi riferisco al segretario proprio su Emiliano leggiamo alcune cose Paolo Ruotolo sul ruolo che Emiliano sta avendo la verità è che restando dentro il partito pensava di spostare dalla sua parte un pezzo di scritti precisamente quelli dell'area bersaniana con i quali aveva fatto un po' di strada ostile alla mia politica di Renzi e loro accogliendo l'irresistibile richiamo o sono usciti assieme a Speranza o si sono posizionati su Orlando un successione senza precedenti poi Roberto Paolucci il presidente ha messo fuori gioco Rossi e Speranza e non ha concluso niente poteva starsene tranquillo avrebbe reso un servizio al paese Sebastiano Carnevale a quelli che rilanciano l'hashtag Emiliano segretario ricordo che in passato erano per l'Emiliano presidente prima ancora Emiliano sindaco insomma un Emiliano irrequieto o Emiliano in carriera la corsa non si ferma mai Dario Fredella ci è mancato poco ma è buono va bene anche così Emiliano segretario Lorenzo Frattarolo qui c'è un c'è un articolo di giornale della Gazzetta del Mezzogiorno dove Boccia dice Renzi e Forte sono nel palazzo quelle primarie Michele può farcela e Lorenzo dice l'onorevole Boccia accusa gli altri media dell'arte Angelo Ruberto la candidatura di Emiliano alla segreteria mi è incomprensibile Antonio Fiano quando non si rappresenta bene il territorio questi sono i risultati Andrea Cappelletta solo Emiliano parla alla sinistra e al paese Matteo Orlando si scambia un accusio violente poi Mariella Romano tra Renzi ed Emiliano c'è solo uno zero di differenza 70 contro il 7% complimenti per la scelta diciamo che è proprio ecumenica ecumenica eh sì in Puglia c'è un senso anche di di maggiore entità di maggiore anche peso per le scelte del governatore Emiliano come risponde Patrizia Lusi ai tanti commenti che abbiamo letto che il territorio sta venendo meno il territorio è in una seconda posizione rispetto agli interessi e agli impegni di Michele Emiliano perché poi anche questo l'elettorato pugliese una parte dell'elettorato pugliese si sente un po' escluso da questa da questa corse da questa nuova sfida di Michele Emiliano ma è la modalità di gestione del 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 potere tra virgolette è sempre stato quello di Michele Emiliano è sempre stata una modalità collegiale e condivisa cioè io parlo per esempio della provincia di Foggia la provincia di Foggia non può adesso sentirsi trascurata dalla presenza trascurata da Michele Emiliano perché comunque in provincia di Foggia continuano a esserci due assessori che sono importantissimi nella giunta Emiliano che la rappresentano e che spesso si sono occupati anche di cose al di fuori o al di là delle loro competenze è ovvio che vedendo il governatore in tutte le parti d'Italia in tutte le città d'Italia c'è questo senso è fisiologico ma è un senso di abbandono che è stato c'è sempre un motivo tranquillo si occupano di abbandono anche perché probabilmente hanno un senso di responsabilità al cento per cento adesso io non lo vedo negativo si può chiamare non lo vedo negativo come si può chiamare esempio ma si può chiamare anche ricerca di consenso non penso che sia legittimo la ricerca di consenso comunque non è sbagliata ho detto è legittimo Patrizia perché se poi ci lamentiamo che quando candidiamo persone che non hanno consenso non sono rappresentative perché non hanno consenso il consenso in qualche maniera bisogna anche recuperarlo non accetto facendo del bene mi piace diciamo dirla tutta ecco perché altrimenti poi voglio dire possiamo proprio provare con la beatificazione potremmo riuscirci voglio dire in politica ci si muove in politica giustamente se io fossi assessore se io fossi assessore della mia città non mi limiterei a fare l'assessore voglio dire se le famose pari opportunità odiatissime da tutti ma forse probabilmente se qualcuno del mio territorio viene so che è una risposta che politicamente lo farei legittimamente è assolutamente valido però non certamente perché vengo presa dalla crociata dell'amore soltanto della mia capitanata ma questa è una considerazione nessuno è preso dalla crociata dell'amore per la capitanata io stessa faccio 120 km al giorno è gratuito perché il mio carico è gratuito certamente vado lì anche perché domani qualcuno dica oh fino adesso questa realtà amministrativa è stato questo da quando si è inserita Patrizia Lusi quella realtà è cambiata da così e così lo faccio anche per questo ma immagino che la propria è un'unica sull'unica quindi per questo non è che lo facciamo un attimo un attimo io non fate ripetere Patrizia perché siamo quasi sui stassi non sono votata alla santità tutti i lavoratori lo posso dire che non sono votata alla santità no no ha volontariato ha volontariato voglio dire io non sono votato e basta non mi sa nessuno il pensiero di Patrizia quindi che è fisiologico diciamo anche una una diversa ma un po' dipende anche dal fatto che lui è abituato tutti dando il suo numero di telefono anche quello essendo presente dappertutto e su tutte le situazioni ha abituato tutti che se non c'è lui mi fate vedere quello che è successo ieri ecco ha avuto un piccolo infortunio andiamo da questa televisione il caloroso abbraccio a Michele Emiliano perché ha avuto però si rimetterà perché Emiliano è un ecco lo stiamo vedendo qui adesso prende un piccolo però mi diceva Patrizia che è già fra l'altro è stato anche ricoverato agli ospitali riuniti di Foggia quindi sta meglio si è rotto il talone d'Achille la partita sarà sicuramente in salita cosa vi aspettate anche un dato se lo vuoi azzardare qui no non voglio azzardare dati questo no io dico solo e lo dico sorridendo tra virgolette senza diciamo voler provocare nessuno dico solo che se fino a questo momento Emiliano o il fronte democratico non esisteva all'interno del partito democratico dal primo di maggio comunque vado inizierà a esistere quindi partecipare alla nascita di una cosa nuova è comunque un'esperienza entusiasmante questo è uno dei tanti dati che poi molti nei social sulla rete citavano ovvero la nascita di una corrente di Emiliano andrà come andrà Emiliano avrà il suo peso io concludo questa discussione guardate con Simona che è la più giovane sull'idea perché ha detto una cosa bella comunque andrà il primo di maggio avremo un segretario che tutti quanti cominceremo a sostenere quale dovrebbe essere l'imprinting che il nuovo segretario dovrà dare che sia Renzi Orlando o Emiliano beh io penso che da giovane perché per rappresentare i giovani molto spesso lo dobbiamo dire i giovani democratici come le categorie le donne concorrono anche a ripristinare vecchie modalità politiche vecchi stilemi vecchi metodi e modelli però voi vi impegnerete a dare una linfa giovane innovativa al partito sì innanzitutto io ho sentito tanto parlare un po' di queste personalità Lorenzi Emiliano ma ciò che magari preme sottolineare almeno da rappresentante della giovanile sono i progetti cioè avvicina i ragazzi avvicina i giovani al partito perché si vede quest'esodo questo allontanamento proprio dalla politica per cui le diste civiche primeggiano per cui gli estremismi dal partire dall'estremismo di sinistra a quello di destra sono entrambi sbagliati ma capite che in un momento di grande difficoltà e di così grande diciamo anche un po' indifferenza generale è facile che prendano piede questi appunto questi estremismi innanzitutto dare un'idea anche di comunicazione completamente diversa queste che abbiamo visto sono degli ultra cioè io li chiamo così bisogna cercare anche di moderare un po' la comunicazione questo il partito democratico deve portarsi avanti ecco alcune uscite di Renzi da questo punto di vista sono state un po' infelici a mio parere il rispetto dell'avversario il rispetto della pluralità delle idee all'interno del partito non sarà soltanto il fronte Emiliano sarà anche il fronte Orlando cioè la storia è questa voglio dire la democrazia si basa su questo altrimenti diventeremmo tutti 5 stelle e chiudiamo qui la partita questo sarà il dato più importante perché dal giorno dopo il fronte sarà sarà quello perché gli ultimi dati ci racconta un'Italia leggermente modificata forse era per quello che diceva Patrizia forse era anche per quello che diceva diceva la nostra la nostra amica Simona il tema è proprio questo forse prendere e riprendere anche tutto quel consenso a sinistra che un po' anche per il per il fronte dei populismi per il fronte di una politica innovativa che guarda molto alla pancia del paese la sinistra ha perso questo è un tema che poi noi riprenderemo perché è interessante si sono anche un po' scaldiati gli animi e la cosa fa sempre bene all'efficacia del nostro discorso noi chiudiamo come sempre con il consiglio letterario questa volta arriva da Milano una studentessa che ci segue ci racconta d'amore di ombra in un cilio afflitto dallo spietato regime oppressivo del generale Pinochet si muovono due giovani anime Irene giornalista e Francisco fotografo entrambi accomunati dalla sete di verità dal desiderio di giustizia e dalla non curanza del pericolo tra i due un amore profondo reso ancora più forte dagli orrori che si troveranno a dover affrontare giorno dopo giorno io devo ringraziare Margherita Rinaldi che ci ha fatto questo d'amore d'ombra di Isabella Ailand che ringraziamo salutiamo per il nostro consiglio e poi io devo salutare anche i nostri ospiti che sono stati con noi a cominciare da Patrizia Lusi per la mozione Emiliano grazie Patrizia grazie a voi Enrico Ciccarelli giornalista che ci ha aiutato un po' a capire come si muove questo partito democratico Rosa Ciccolella per il fronte di Matteo Renzi grazie a voi e poi Simona Gaudiero per la mozione di Andrea Orlando questa è stata la nostra puntata avete visto abbiamo parlato all'inizio di una politica che si fa carne e anima nel rione sanità e poi siamo arrivati al partito democratico che dovrebbe dai prossimi mesi riprendere in mano il timone del paese sperando per loro dalla vostra parte anche con un'armonia un po' più generale io vi ringrazio Piazza Social torna la prossima settimana sempre dalle 21 su Tele Blu e ve l'abbiamo detto dalle prime puntate questo adelante che ripercorre è un aspicio per tutti quanti perché ce n'è davvero tanto bisogno ci vediamo la prossima settimana adelante per tutti allora Piazza Social vi aspetta venerdì prossimo buona serata Piazza Social